Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Le Nuove del Paese, giornale del decanato di Livinallongo. In prima di copertina il decano Don Dario Fontana, ormai a conclusione del suo lungo servizio in questa zona, con un titolo molto forte fa riflettere i lettori. Non dobbiamo ritornare come prima. La situazione che abbiamo vissuto ha messo in luce alcune apparenze, alcune illusioni, un certo modo di vedere Dio, quindi la preghiera, e allora lui chiude che dobbiamo riscoprire una vera immagine di Dio e di fronte alla realtà che si è creata, sottolinea come non sarà come prima, bisogna ritornare, ripartire con nuove situazioni, nuovo sentimento nel cuore, nuovo atteggiamento. In ogni caso c'è questa speranza che ci accompagna. Come sempre il giornale riporta le riflessioni che di mese di settimana in settimana Don Dario o le sorelle che vivono a Dicepolo del Vangelo, che vivono in Livinallongo e a Rabba, offrono ai fedeli e qui vengono riportate per una rilettura. Il 25 aprile è stata celebrata la Cresima, qui diamo il Vescovo Don Dario e Cresimati, ad Rabba e nel 9 maggio è stata celebrata anche una prima comunione, qui vediamo Don Dario con la Catechista. Diamo corpo alla proposta, Don Dario ha proposto una riflessione settimanale sulla conoscenza della fede, attraverso il sistema dell'utilizzo dei mezzi attraverso internet e 30 persone hanno aderito e hanno vissuto questa esperienza di approfondimento e di riflessione molto interessante. Sorelle e discepole del Vangelo, inaugurazione lavori canonica di San Giovanni, sono già 40 anni che le suore vivono in questa esperienza, è stato rimesso a posto l'edificio destinato nel passato a canonica e a scuola, era inutilizzato da parecchio tempo, è stato offerto alle suore che vivono un'esperienza di comunità, ma anche di servizio intenso alla comunità che le ospita, Livina Longo e a Rabba e vorrei dire anche all'intera diocesi attraverso un supporto alla pastorale giovanile. L'inaugurazione dei lavori è stato un momento interessante. Dio del Paio il Dottor Piere, il Dottor Pietro De Mattia, mancato il primo luglio del 21, ha solo i 61 anni, era il medico che seguiva con passione e professionalità anche gli ospiti di Villa San Giuseppe, la casa di riposo di Livina Longo, dove lui lavorava dal 1993, una grande perdita, l'articolo esprime la riconoscenza della comunità. Anche di Francesca, morto da 81 anni, il 22 di giugno, viene ringraziata con un ricordo e una foto di un'iniziativa da lei guidata. Villa di San Giuseppe, ricordi del passato, la festa del Corpus Domini, i vari ospiti provenienti da varie zone ricordano come si viveva questa esperienza. Relazione amministrativa delle parrocchie di Pieve di Livina Longo e di Rabba e poi la parte dedicata alla parrocchia di Colle. La parrocchia di Colle non fa notizia, è pure viva, dice il parroco, Don Renato Tasso, e racconta le vicende della comunità, la prima confessione, le feste primovelili. Viene dato anche conto di com'era la processione del Corpus Domini nel 66, una immensa manifestazione di fede e anche di passione paesana. Padre Sisto Agostini, 50 anni di vita missionaria, viene riportata la foto della prima messa, adesso in Etiopia, 50 anni di vita. E poi le varie associazioni che vengono ricordate nella loro attività, l'attività l'incendo di Canazzei di cui hanno parlato molto i giornali nel momento in cui si è realizzato il 4 giugno. L'angolo dei ricordi, la ricchezza di Fodon, la festa di Santa Maria all'Assunta e poi dal mondo ancora delle associazioni che il giornale riporta le varie attività e la situazione di questa parte viva della comunità di questi paesi. Abbiamo visto le nuove del Paese, giornale del decanato di Livi Nallongo. Passiamo attorno alla torre, giornale della parochia di San Lorenzo, diacono e martire, di Lozzo di Cadore, in prima di copertina, sottotitolo estate 2021, il resoconto della prima comunione della Cresima, i protagonisti rigorosamente con la mascherina come si conviene a ogni purtroppo celebrazione nel senso che è un vincolo importante. Classe 46-47 in quinta e qui una foto di cui si chiede si chiede la datazione. Una provocazione alla riflessione di Don Osvaldo Belli, atei con i sacramenti. Ecco, praticamente c'è il rischio che la celebrazione dei sacramenti, battesima, prima comunione, cresima, diventi una consuetudine non legata alla fede ma a un passaggio di età e quindi si svuoti il rito religioso del suo significato di fede per farlo diventare puramente una festa laica, possiamo usare questo termine, pur avendo gli aspetti di una celebrazione religiosa. L'espressione è molto forte, generazione di atei con i sacramenti. È una riflessione sulla perdita nelle gare, anche nella sconfitta può esserci una vittoria. Il Papa sottolinea questo atteggiamento. Abbiamo il bacio di Guardiola alla medaglia, lui che aveva appena perso una competizione importante, a differenza, l'abbiamo visto alla televisione, di chi si è sfilato immediatamente appena ricevuta la medaglia del secondo posto. Viene presentata una figura forse non molto conosciuta, Beata Maria Pia Mastena, la fondatrice delle Suore del Santo Volto, che hanno la sede di fondazione a San Fior di Treviso e hanno anche una casa generalizia a Roma. Ecco suore che hanno servito nella nostra comunità, nella parrocchia di Polpet, Ponte nelle Alpi, per alcuni anni e ora servono in altre comunità. Centinaio di suore di questa congregazione. La Messa della Domenica è una testimonianza di una persona che la vive, resoconto del fioretto celebrato nel mese di maggio. Poi abbiamo una riflessione a proposito di donne, una frase del Vescovo che ha aperto la possibilità di fare di stile parrocchia, laici maschio e femmine, quindi questa opportunità che potrebbe venire offerta anche alle donne. Una riflessione su San Giuseppe, una riflessione ancora sulla statua della Madonna, e poi abbiamo due belle scritte preparate dal dottor Spiro della Lucia nel momento in cui vede terminare la loro vita a causa del Covid, Don Giovanni Untenberger e Don Elio Larese, sacerdoti che lui ha seguito con professionalità come medico e che ha seguito anche con amicizia per il legame che legava lui e la sua famiglia a queste persone. Due belle riflessioni che meritano di essere lette. Il giornale dà poi conto dei sacerdoti che hanno concluso in questo periodo la loro vita, Don Elio Larese, Don Giovanni Untenberger, Don Flavio Dell'Ongo, Don Vinicio Marcon, Don Bernardo D'Agostini, Don Maurizio Doriguzzi, Don Tarsillo Bernardi, Monsignor Regino Cardin e Giuseppe Bortolà, tutte figure conosciute anche nel Cadore. Il giornale passa poi, notizie dal Paese, a dare il resoconto delle varie attività che si sono svolte nei mesi precedenti con una documentazione fotografica, che abbiamo la bella foto della Cresima, protagonisti di alcune celebrazioni e alcuni personaggi che hanno lasciato il segno nella comunità e che vengono ricordati. Ecco, il giornale continua poi con questa cronaca, interessante anche la sottolineatura che la Chiesa del Cristo, pur non avendo vicino il convento funzionante, la Chiesa è aperta due volte alla settimana, accoglie le persone, ci sono i sacerdoti a disposizione per le confessioni. Altre attività che hanno segnato, il Gres di Lozzo che subisce una qualche difficoltà per l'organizzazione, il nido si reinventa, ecco notizie della scuola materna, notizie della biblioteca comunale di Lozzo di Cadore. E poi un ampio e dettagliato resoconto dei lavori che sono stati operati in parrocchia, nel santuario Madonna di Loreto e anche alla casa di riposo, pur non essendo più luogo di accoglienza di anziani. Abbiamo visto attorno alla torre giornale di Lozzo di Cadore. Passiamo all'ombra, l'organo del circolo culturale Sinistra Piave. Ecco, come sempre, diamo conto degli articoli messi in evidenza dal giornale stesso, per Tricchiana, la novità nel Parco Locco, l'otto del Padell. Questo nuovo gioco che riesce a suscitare molta attenzione, un misto tra tennis e ping pong, 200 persone che hanno partecipato, che frequentano questo campo. Il problema della creazione di un campo coperto, è questo sport che sta prendendo piedi in varie località, il Padell. A Limana ha inaugurato il monumento agli emigranti di Jaun. Dopo la mostra che sarà aperta tutto il 22, e la pubblicazione di un libro sull'emigrazione, il monumento che viene qui rappresentato, è stato un monumento interessante che vuole ricordare le vicende attraverso sei pannelli, l'artista Lorenzette li ha preparati, che richiamano delle attività svolte dagli emigranti di Jaun. abbiamo le ragazze che andavano a lavorare nel Trentino, i muratori e i carpentieri, i minatori, le balie da latte. Ecco queste realtà che lasciavano Jaun per andare a cercare anche il sostegno per le proprie famiglie in Italia e nel mondo. Anche qui alcune fotografie che documentano. Per Borgo, Valbelluna, Mel abbiamo il resoconto dell'apprezzamento ricevuto in alcuni concorsi letterari da Daria de Pellegrin a Chieti, Como e Roma. Viene dato conto delle opere premiate di questa scrittrice della nostra zona, della Valbelluna e di Mel. E da ultimo, Lentiai, sempre Borgo, Valbelluna, la latteria in assemblea, ecco la latteria di Lentiai, punto di riferimento della lavorazione di questo prodotto del latte in questa zona, una latteria che nonostante le difficoltà degli anni scorsi, si rinnova anche nei soci, ad alcuni che concludono anche la loro esistenza terrena, se ne sostituiscono altri, per dare vitalità a questo servizio locale. E poi abbiamo anche l'utilizzo di fondi per creare qualcosa di significativo, per servire le comunità dove è presente. Ecco, un bilancio che diventa positivo, come documenta la relazione morale, in occasione della assemblea. Ecco, il giornale, dopo l'intenso, come sempre, primo piano e riflessione di Giorgio Roncada, hanno vinto i ricchi e alla grande, ecco, chiede allo Stato di salvare l'interesse di tutti e non solo di rischiare di schierarsi per altri. E poi il giornale, per ogni una delle quattro zone, presenta parecchi interessanti avvenimenti che si sono svolti. Ecco, abbiamo visto l'ombra, organo del circolo culturale Sinistra Piave, con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione di visione con i programmi di Telebelluno. Grazie a tutti i telespettatori